I numeri non sbagliano e sono chiari. Rolando Maran corre ed accelera rispetto al Catania di Vincenzo Montella. 11 giornate e 15 punti per Maran rispetto ai 14 raccolti da Vincenzino. Un punto in più fatto di convinzione del fattore Massimino e dalla consapevolezza donata dalla coesione del progetto. Maran ha lavorato in silenzio ma con sapienza certosina, sfruttando l'amalgama e i principi di una squadra già consolidata, mettendo poi dentro del suo, cominciando dalla velocità, dall'atteggiamento diverso degli attaccanti e voglia di far gioco con spiccata personalità. Perdeva meno Montella, tre sconfitte contro le quattro di Maran, ma l'allenatore attuale del Catania ha vinto una gara in più rispetto al suo predecessore. Quattro contro tre, numeri completati dal numero di pareggi, cinque quelli di Montella, tre quelli di Maran. A confermare proprio che Rolando non ama mezze misure, vince o perde. Il dato poi dei gol fatti e subiti premi ancora Maran, che ha esaltato più di Montella e il fattore attaccanti, con quindici reti messi a segno rispetto alle tredici della passata stagione. E se lo scorso anno il gol in più era dei difensori e dei centrocampisti, quest'anno l'essenza arriva dagli attaccanti con Gomez, Bergessio e Barrientos, autori di nove reti, sulle quindici totali. Da ciò il confronto con il ciclo terribile è passato, con sei punti e tanti rimpianti e scippi per Maran, mentre Montella andava a raccogliere nove punti in cinque gare con le cosiddette grandi. Adesso alle pari grado. Montella e la squadra lo scorso anno proprio con le piccole dilapidarono tutto ciò che di buono era stato fatto prima. Ora tocca al Catania di Maran, che proprio per un atteggiamento più furbo e letale in ripartenza fa besperare. I numeri fino ad ora lo premiano con Genova, Atalanta, Parma e Bologna. Il suo Catania ha raccolto nove punti, il Cagliari è avvertito per firmare la prima vittoria esterna, proprio come lo scorso anno quando quel Catania di Montella vinse a Lecce grazie a Barrientos all'ultimo respiro.